Siamo qui a parlare di CRM con questo tipo di ragionamento e vi diciamo anche perché abbiamo invitato Giacomo Codazzi di Auspott, che di CRM, sapete sicuramente ce ne sono tanti. Noi siamo partner Auspott da molti anni e Auspott è centro di molti dei progetti, e il motivo per cui riteniamo che Auspott riesca a proporre come tecnologia ai clienti qualcosa di diverso è che non è intaccante. Anzitutto sono tipici, ma spesso diciamo anche in aziende che per qualche motivo, diciamo come in volta lavoriamo con loro, non hanno Auspott perché avevano già un CRM, però la filosofia che proseguiamo è anche un mezzo di Auspott, però alcune caratteristiche che secondo me sono interessanti, che sono la velocità di introduzione in azienda, ovvero il fatto che molto spesso in genere i progetti con Auspott non partono come progetti, partono come un qualcosa che riesco ad attivare rapidamente, magari senza neanche particolari integrazioni, ma riesco a far accadere rapidamente delle cose, che è poi quello che giustifica anche il crescere e il potere investire sui progetti, la velocità di introduzione. La facilità di integrazione con canali esterni. Vedevamo prima nel nostro ecosistema, torno un attimo indietro, che tutto questo mondo parte ad esempio dal mondo social, dal mondo del sito, dal mondo dell'email e quant'altro. Integrare all'interno di Auspott questi canali per fare in modo che le informazioni di cosa avviene su questi canali, io le abbia anche centralizzate, per vista unica, integrata, non la faremo più semplice. E questo è un enorme valore perché o le informazioni stanno insieme o non sono comprensibili. Molto spesso nelle aziende, io se voglio sapere cosa succede nelle campagne pay, devo andare da una parte, se voglio sapere cosa succede sul sito, devo andare da un'altra, se voglio sapere cosa succede sul sito, devo andare da un'altra, ma sono informazioni che per loro non si parla. E quindi io mi trovo qualcuno che magari mi ha chiesto un incontro, ma non so da dove è arrivata. L'orientamento all'innovazione tecnologica, stiamo parlando di una piattaforma che, sentendo davvero un'evoluzione, molto importante, già come dopo ci racconterai alcune cose, una facilità di personalizzazione in autonomia dei processi, ancora una volta, predisporre una landing page, montare un workflow per cui a fronte di qualcuno che fa una cosa e ne succede un'altra e quant'altra, non è un tema, ma bisogna un programmatore, bisogna di qualcuno che impare a usare alcune funzionalità. e quindi mi permette di costruire processi. Cosa intendo dire per costruire processi? Intendo dire che se io voglio organizzare un evento come quello dove siamo noi, io posso strutturare un processo che anche lavorando per automazioni faccia cadere delle cose. Tipo il fatto che chi di voi oggi è tra i partecipanti, domani riceverai in automatico una mail che ti dedico, non c'è mai tenuto. E se quella la scarica, allora succedono altri. Questi sono processi. Ma contemporaneamente vuol dire che magari al commerciale, che è di riferimento per quel contatto, gli arriva una mail che lo avvisa, guarda che è allerto a Franchini, ha scaricato la presentazione e è andata a guardare questa pagina. Questi sono processi. Sono processi che possono montare le persone che normalmente lavorano in attrazione, non sono informatici. Non ultimo, ma è legato a questo, è la semplicità che l'utilizzo da parte. Riesce a essere usabile anche da Franchini. Scusare, io vuol dire che dal punto di vista tecnico non è qualcosa di più. A destra trovate dei grandi punti interrogativi legati. E' chiaro che Ausot è uno. Esistono altri, esistono grandi player che nascono dal mondo IT, penso a Salesforce, SAP, Oracle. quel mondo Microsoft, che hanno assolutamente le loro piattaforme. Però sono dei grandi player IT, quindi sono progetti che normalmente nascono come dei progetti IT. Quindi integrazione spintissima, ma molto poco attenzione a tutte quelle cose che nella slide vedete a sinistra. Quindi nascono come i grandi progetti informatici. Però ci dimentichiamo dei risultati che devono portare a casa le persone nel brand. E quindi certi molto lunghi, molto IT, che si dimenticano da adesso. Noi sappiamo che, almeno nella nostra esperienza, le cose accadono perché le persone fanno cose e riescono ad avere un valore. La logica del CRM custom è un qualcosa che tante aziende hanno in corso dicendo io mi devo far fare il CRM come serve a me. C'è un piccolo problema in questo caso. Ce ne sono due piccoli, ma che sono enormi. Prima, che vuol dire che tu ritieni di sapere esattamente di che cosa hai bisogno per gestire dei processi che in azienda non hai mai gestito con le logiche di gestione. Quindi lo crea tua immagine e somiglianza, vuol dire che non diventerà qualcosa che aiuta a cambiare i tuoi processi. Quello che succede nell'informatizzazione, nella pubblica amministrazione, tu vai a prendere le persone che fanno una cosa in maniera burocratica e gli dici come la vuoi informatizzare. Tu vai a informatizzare la burocratica del sistema. Quindi, CRM custom ha questo grande. L'altro grande limite è che chiaramente, essendo un progetto custom, il livello di integrazione e evoluzione che possono avere è estremamente basso. Tutte le cose che succedono sugli altri canali che dobbiamo integrare, che siano il sito, la tecnologia con cui hai fatto il sito, tutto il mondo di Google, tutto il mondo delle campagne, il mondo di meta, evolvono. Se quelle informazioni le devo avere nel mio CRM, vuol dire che il passo con cui io devo aggiornare il punto di vista tecnologico nel CRM è quello là. Diventa un gioco veramente complesso. CRM custom, tendenzialmente. Esistono anche soluzioni, SAS, a moduli, che hanno il limite, nel nostro punto di vista, che tutte le volte che ti viene in mente che vuoi fare qualcosa di diverso, devi andare a comprare e integrare un altro modulo. Quindi, ancora una volta, in termini di potenza, che puoi mettere a terra rapidamente, in maniera agile, hai qualche modo. Questi sono i motivi per cui noi, quando c'è lo spazio sul cliente, riteniamo che Absol c'è lo stesso. È il motivo per cui, e ringrazio di essere qui Giacomo, Giacomo è con noi, adesso ci racconterà, dal punto di vista di Absol, su gli abbiamo chiesto di approfondire in particolare l'aspetto. Quindi, già, grazie di essere qui con noi, la parola, interrompo la condivisione io, così la puoi fare tu, vai avanti in autonomia, e poi la riprenderemo di più tardi, e dati di forma a zero, se avrà voce, perché oggi qualche problema di voce, così è così. E riprenderemo noi raccontandovi case applicative dell'interno. Sì, che crediamo possono essere interessanti. Perfetto. Grazie Alberto, grazie Davide. Condivido, datemi solo un cenno, se vedete, il mio schermo, perfetto, non è già andata avanti, scusate. Sì, allora, è un piacere essere qua oggi, parliamo, o meglio, continuiamo questo discorso, e lo teniamo sul filone Marketing e Sales. Partiamo da, da questa slide, che ha, un grande significato per HubSpot, perché, appunto noi, come azienda, siamo stati gli introduttori, di questo concetto di Flywheel. Fino a qualche tempo fa, è classico, la classica metodologia, per recuperare leads, era il classico funnel, che noi, chiamiamo in Italia, in buto, dove, essenzialmente, si creano, si vanno a creare, diverse attività marketing, top of funnel, quindi nella parte alta, si portano i lead, in maniera verticale, fino a circa la metà, e poi, si cercano di convertire, tramite attività, di diversi tipi, compresa la parte, la parte commerciale, fino a trasformarli, in quelli che sono clienti. La logica HubSpot, è ben diversa, la logica HubSpot, mette il cliente, al centro, e va a costruire, attorno ad esso, tutta una serie di attività, che derivano, da diversi dipartimenti, dell'azienda. Attività marketing, attività sales, e attività service. Per spiegarvi un po' meglio, questo concetto, vi invito a guardare, questa immagine qua in alto, perché c'è, diciamo, la concezione, che il percorso, che porta, un probabile lead, o un prospect, da diventare cliente, sia lineare, ma di base, non è così. Infatti, il percorso è molto più, a serpentina, e si sviluppa, su diversi, e su diverse, infrastrutture, e metodologie. Infatti, nel percorso, che porta un lead, a essere cliente, ci sono diversi fasi. C'è una fase, in cui, questo lead, è completamente anonimo, e magari, visita, quello che è il nostro, il nostro, la pagina web, poi converte, compilando magari, un form, e viene ingaggiato, da quella che è, la parte sales, e poi diventa, un nostro cliente. Da qui la palla, passa da sales, a service, fino a quando, si spera, abbia ricevuto, dei, un buon trattamento, e quindi diventa, un promoter, di quelli che sono, i nostri servizi. Di nuovo, per definire, HubSpot, ancora una volta, possiamo pensare, possiamo guardare, questa immagine, possiamo pensare, ad HubSpot, come un'infrastruttura, tecnologica, dove alla base, di questa infrastruttura, noi abbiamo, il nostro database, che è univoco, e sottolineo univoco, perché il valore aggiunto, è montato, su questo database, ci sono diversi moduli, oggi nello specifico, parleremo di sales e marketing, ma ce ne sono diversi, come service, la parte content, quindi gestione siti, operation, e commerce. Un'unica piattaforma, perché? Perché è un'unica piattaforma, da cui gestiamo, tutte le informazioni, dei nostri clienti, qualsiasi sia, il punto, d'ingresso, di questi clienti, quali sia il loro stage, all'interno del nostro ciclo di vendita. I principali vantaggi, nell'adozione di, un CRM voluto, come può essere HubSpot, quindi, un'infrastruttura, integrata e integrabile, sono diversi, sono tanti, quindi magari li, menzioniamo, li vediamo velocemente, centralizzazione delle informazioni, ho detto giusto prima, che abbiamo appunto, un database univoco, un database univoco, quindi una scheda contatto, dove risiedono, tutte le informazioni del cliente, a partire da ciò, che ha guardato, rispetto alle nostre campagne marketing, nostri contenuti, prima di diventare cliente, fino al tipo di contratto, che adesso ha con noi, quindi, l'insieme delle informazioni, e lo storico delle informazioni, risiedono, all'interno, delle pagine, dei nostri contatti. Personalizzazione dell'interazione, con questi dati, che noi raccogliamo, su questi contatti, possiamo anche andare a tenere, un tono di voce, e una modalità di comunicazione, coerente, con quella che, diciamo, la tipologia del nostro cliente, grazie a quelle informazioni, che abbiamo proprio, nel CRM. Automazione dell'attività di vendita. Ecco, parliamo per la prima volta, dell'attività di automazione, che si può fare, tramite CRM voluti, come HubSpot, dove essenzialmente, andiamo, a rimpiazzare, tutte quelle attività, che venivano fatte, in maniera metodica, manualmente, tramite quelle che possono essere flussi di automazione. Questo non soltanto aumenta la produttività, dei diversi dipartimenti, perché le automazioni possono essere applicate, in diversi dipartimenti, ma aumenta anche la precisione, e evita l'errore umano. Analisi, e reporting avanzati. Una volta che abbiamo, un CRM in grado, di raccogliere, tutte le informazioni, di questi clienti, possiamo anche utilizzare, questi dati, che hanno un gran valore, per creare, quelli che sono report, e quindi anche, con un impatto visivo, di quello che è lo stato, delle informazioni, che vogliamo, vogliamo controllare. Possono essere, le trattative, possono essere, il numero di lead, creati su una determinata campagna, come possono essere, le richieste, del customer support. Insomma, sono, una volta che il dato, è all'interno del CRM, possiamo creare, dei report, che ci aiutano, a prendere decisioni informate, per andare avanti, nella nostra attività. Gestione efficiente, del ciclo di vendita. Importantissimo, creare lead, a livello marketing, ancora più importanti, assicurare, assicurarsi di portarli avanti, e chiuderli. Gestione efficiente, del ciclo di vendita, cosa vuol dire? Avere un'infrastruttura, che permetta, al commerciale, di seguire in maniera precisa e puntuale, la sua attività. Supporto alla customer experience, un termine un po' generale, però, una volta che abbiamo, i dati all'interno del CRM, qualsiasi sia il punto d'ingresso, della richiesta, che sia customer support, sales, oppure marketing, avendo tutte le informazioni, riusciamo ad avere una visione precisa, di quello che è il cliente, quindi, offrire una customer experience, puntuale. integrazione con altri strumenti, HubSpot di per sé, è una piattaforma integrata, nel senso che, in unico strumento, ci sono cinque moduli diversi, ma se l'infrastruttura HubSpot, non dovesse bastare, HubSpot è anche una piattaforma, estremamente aperta, abbiamo più di mille, integrazioni disponibili, con applicativi, che sono utilizzati, tutti i giorni, da un sacco di aziende italiane, a partire dai più classici, come Gmail e Outlook, fino ad arrivare a, soluzioni molto più avanzate, e di settore, come possono essere, strumenti di quotazione, o altri strumenti. Gestione delle relazioni a lungo termine, di nuovo, avendo lo storico di un client, e avendo tutta l'informazione, all'interno del CRM, è praticamente impossibile sbagliare, la relazione con esso. Prossima slide, ecco qua, scalabilità e crescita progressiva. Il modo in cui è disegnato HubSpot, permette, un'adozione step by step, permette, di accendere un modulo alla volta, e permette anche di scalare, il numero di persone, che accedono alla piattaforma, a seconda delle necessità. Quindi è una soluzione, che cresce insieme all'azienda. Maggiore competitività, insomma, nel 2024, non avere un'infrastruttura, tecnologica, può creare, delle problematiche, dei rallentamenti, delle imprecisioni, all'interno dell'attività, day to day, di tutte le aziende. Quindi avere, un'infrastruttura tecnologica, che sia, diciamo, up to standard, permette, di portare avanti, la propria attività. Ok. Passiamo adesso, la parte, di collaborazione, marketing e sales. Facciamo prima questa parte qua, e poi alla fine, vedremo, la parte di integrazione AI, all'interno di HubSpot. Ok. Abbiamo deciso di mettere, delle immagini, per darvi anche, un impatto visivo, di quello che effettivamente, è, il tema principale. Informazioni condivise, tra marketing e vendiche. Nello specifico qua, stiamo parlando, di visualizzare, in maniera trasparente, quelli che sono, i diversi step, in cui si può trovare, un lead, fino a diventare customer. Nell'esempio che abbiamo, qua sotto, per esempio, questo è un report, che parla, delle visualizzazioni organiche, di una pagina web. Qua possiamo vedere, le sessioni visitate, qua sono i lead, che effettivamente, sono convertiti, e questi sono i customer. Ecco, avere uno strumento del genere, permette, non solo, al marketing, da andare a, provare, l'attività, che sta facendo, ma anche, dà una direzione, al dipartimento, per capire, quali effettivi, campagne, stanno performando, oppure no. Un altro strumento, che possiamo utilizzare, in HubSpot, riguarda quella, riguarda il lead scoring, e la qualificazione automatica. Il concetto, qua qual è? Che, ci sono delle modalità, attraverso cui, noi possiamo andare, ad identificare, tutti quei soggetti, che sono più vicini, alla fase decisionale, che quindi, sono più, sono più pronti, a parlare, con un commercialo, sono più pronti, ad acquistare, o ad aprire un progetto, per il nostro bene o servizio. HubSpot, con tutta una serie, di automazioni, permette, di andare, ad aggiungere, o sottrarre, dei punteggi, a questi, a questi utenti, e, se dobbiamo prendere, per esempio, degli esempi, vado ad aggiungere punteggi, rispetto a quelle, che sono le informazioni, del contatto, che possono essere, il paese, la regione, ma anche altre, come per esempio, il verticale, l'interesse, che ha manifestato, nel form, il numero di volte, che ha visitato la pagina, quante volte è ritornato, se ha visitato, magari, il nostro blog, poi ha aperto la mail, ecco, tutte queste informazioni, possono essere utilizzate, per andare, a dare, un punteggio al lead, più alto il punteggio, chiaramente, più lead è caldo, e questo lead, poi, può essere passato, quando raggiunge, un determinato punteggio, direttamente, alla parte commerciale, che ha, diciamo, questo campanello di allarme, quindi capisce, che lì c'è una persona, interessata a parlare, del nostro bene servizi, quindi, il lead in automatico, passa, da marketing a sales, e si porta avanti, la trattativa. Queste attività, si fanno, chiaramente, nel back end di HubSpot, ma poi, si vanno a monitorare, su quelle che sono piattaforme, o meglio, su quelle che sono dashboard, che si vanno a creare, all'interno di HubSpot, in questo esempio, scusate, è ancora, di nuovo, un ciclo di marketing, dove ci sono, i qualified lead, quindi, le persone potenzialmente, interessate, la fonte di ingresso, ovvero, effettivamente, da dove arrivano questi lead, quindi, qual è la campagna, o l'attività di marketing, qua abbiamo diversi esempi, paid search, organic search, referral, e email marketing, queste informazioni, possono essere utilizzate, un po' come una bussola, per il dipartimento marketing, per andare, a decidere, quale attività di marketing, portare avanti, e quale di queste attività, hanno il ROI più alto, e, conseguentemente, questi lead, possono essere passati, alla parte commerciale, per aprire, e eventualmente, chiudere le trattative. Un altro strumento, molto potente, della parte, marketing di HubSpot, è, lo strumento di workflow, strumento di workflow, che essenzialmente, si compone, di due, di due, di due fasi, un trigger, un action, essenzialmente, possiamo andare a settare, quelli che sono, dei comportamenti, dell'utente, magari provo un attimo, a, ingrandire, ingrandire, esatto, ipotizzando, in questo caso, se andiamo a prendere, se andiamo a prendere, un utente, a caso, possiamo, essenzialmente, guidarlo, attraverso un percorso, il workflow, si compone, di appunto, un trigger, che può essere, per esempio, visita al nostro sito, e un action, l'action, può essere, mandagli una mail, il workflow, essenzialmente, è una catena di automazioni, che può essere, intervallata, da, per esempio, un delay, una mail, una chiamata, un commerciale, una task, tutte queste attività, vanno a fare, l'attività, top of funnel, per la parte marketing, e poi, di nuovo, quando il lead è pronto, a comunicare con un commerciale, può essere, passata in maniera automatica, al commerciale, dove l'attività principale, di nurturing, di education, è stata fatta, dalla parte marketing. Scusa, Giacomo, ti interroppo secondo, quello era un pezzettino, ad esempio, del nostro workflow, per, format webinar, quindi è un pezzo, di automazione, che noi implementiamo, ogni volta che invitiamo, le persone, a partecipare ai nostri webinar, è un estratto proprio, quindi è un'immagine, puramente esplicativa, però serve, per, replicare, il processo, in maniera automatica, quindi ogni volta, che creiamo un webinar, noi replichiamo, il processo, cambiamo ovviamente, i temi, e i contenuti, del racconto, che andiamo a fare, ma una volta, che ogni volta, che abbiamo un evento, non dobbiamo, quello che dico io sempre, reinventare la ruota, ma utilizziamo, un format, che è codificato, e funziona. ottimo, grazie, andando avanti, ancora, allineamento, marketing e savings, e allineamento, su quelle, che sono le campagne, abbiamo le nostre, quattro stage, del funnel in marketing, quindi a track, convert, close and delight, cosa abbiamo, essenzialmente una dashboard, che ti permette, di capire, quali sono, se ci sono eventuali bottleneck, nel flusso di conversione, che porterà i nostri stranger, fino a diventare, promoter, e in tutta questa fase, andiamo a condividere, quelle che sono le risorse, tra i due dipartimenti, quindi diamo accesso, alla parte commerciale, rispetto a quelli che sono, i contenuti utilizzati, all'interno delle campagne marketing, e poi forniamo, questi contenuti, anche commerciali, per sapere effettivamente, quali sono, i motivi, che hanno portato, queste persone, a interagire con noi, quali sono, quegli argomenti, che hanno scaturito, interesse. Un altro punto, dove possiamo vedere, questa sincronizzazione, tra, la parte marketing e sales, è all'interno della pagina, contatto di ogni utente, questa è un po', l'interfaccia HubSpot, dove essenzialmente, se filtriamo, per quelle che sono le attività, possiamo vedere, lo storico, delle interazioni, qualunque sia, diciamo, la fonte, infatti, non so se vedete, ma qua ci sono le chiamate, le conversazioni, le email, e queste sono attività puramente sales, mentre qua, più a destra, ci sono invece le attività ads, l'email marketing, le FOB submission, questi sono tutti in site, che possono essere utilizzati, nel momento in cui, il commerciale, di riferimento, va ad aprire, una potenziale conversazione, con l'azienda, o il prospect, o il prospect, integrazioni, come vi menzionavo prima, HubSpot, è una suite di prodotti, quindi, di per sé, può gestire in autonomia, tutta quella che è la customer experience, se questa non dovesse essere sufficiente, HubSpot si integra, con migliaia, sono davvero migliaia, di altre applicazioni, per la maggior parte, o meglio, per tutte quelle che vedete qua, c'è già un connettore, quindi un plugin già costruito, cosa vuol dire, che con qualche click, le due applicazioni, i due applicativi, si connettono, se questo non dovesse essere sufficiente, ovvero, se vi fosse un applicativo, che va integrato con HubSpot, che non compare all'interno del nostro marketplace, si può sempre integrare tramite un API, l'API di HubSpot è aperta, e bisogna ingaggiare quello che può essere, uno sviluppatore o un'agenzia, e si possono integrare due soluzioni, per portare a comunicare i due software, in maniera bidirezionale. Di nuovo, qua reiteriamo il concetto, dell'allineamento tra marketing e vendita, avere degli obiettivi condivisi tra i due dipartimenti è fondamentale, avremo gli obiettivi del marketing, che sono creare contatti, convertire questi contatti in lead, e poi farli diventare lead qualificati, mentre invece per il team sale, sarà riqualificare questi lead, aprire opportunità, e poi convertirli in clienti. In questo modo si possono anche misurare quelle che sono le responsabilità di ogni team, e adesso possiamo passare all'argomento dell'intelligenza artificiale. e adesso possiamo passare all'argomento, e adesso possiamo passare all'argomento.